Una vicenda, quella della discarica dei veleni di bussi, che l'avete coinvolto da 4 anni praticamente. Non solo lei come dirigente dell'ACA, ma anche l'azienda. Eravate stati additati come gli avvelenatori di 480.000 persone circa che sono serviti dal vostro acquedotto. Oggi è arrivata la sentenza con il non luogo a procedere. Sì, è stata per me anche personalmente la fine di un incubo, durato appunto 4 anni, che hanno portato anche le mie dimissioni da presidente dell'ACA nel dicembre del 2008. Ho affrontato questo giudizio in maniera serena, chiaramente ripassando migliaia di volte tutti gli atti che io ho compiuto, ma uscendo da un punto di vista di coscienza assolutamente sereno di aver fatto tutto quanto con il massimo della professionalità di cui disponevo. E oggi una certificazione con il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, è certamente un grande motivo di soddisfazione per quanto mi riguarda e anche, come dicevo, la fine di un incubo, perché si è certificato che i cittadini abruzzesi hanno sempre bevuto un'acqua al di sopra di ogni sospetto. Un'acqua, dicevamo, controllata non solo dai laboratori dell'ACA, ma anche da altri laboratori. Sì, l'acqua è controllata costantemente dai laboratori Arta di Pescara, Arta di Teramo e Arta di Chieti, che fanno centinaia e centinaia di controlli ogni anno. E tutto questo è venuto fuori e i cittadini abruzzesi hanno bevuto sempre acqua pulita, acqua rispettosa della legge. Chi le è stato più vicini in questi anni di battaglia giudiziaria? Beh, sicuramente devo ringraziare la mia famiglia, in particolare i miei figli, che frequentando la scuola hanno anche loro sofferto di questa situazione, in particolare mia moglie, che è veramente stata una persona splendida, che mi è stata tanto vicina. E in particolare volevo anche dire che io sono stato assistito all'avvocato Sergio della Rocca, che posso dire, insomma, per esperienza personale, che quando si è nel momento del potere, eccetera, le persone sono tante che ti stanno vicino, i professionisti tanti che ti stanno vicino, ne rimangono sicuramente pochi quando le cose non vanno nel migliore dei modi.